Il Codacons ha deciso di offrire assistenza legale ad una 63enne che lo scorso 4 agosto è caduta su un marciapiede di via Fabio Gori ad Ostia Antica a causa di una buca. La donna ha riportato la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Stiamo preparando le carte per avviare un'azione risarcitoria contro il Campidoglio, ha dichiarato il presidente dell'Associazione per la Difesa dei Consumatori, Carlo Rienzi. Ricordo a tutti i cittadini che è possibile aderire alla class action lanciata sul sito internet del Codacons, attraverso la quale i residenti possono chiedere il risarcimento per lo stato pietoso delle strade, anche in assenza di lesioni fisiche e di danni ad autovetture e moto. Intanto, proprio l'altro pomeriggio, un'altra donna è caduta a terra, sbattendo fortemente la testa e ferendosi al volto. Oltre al danno, anche la beffa, nonostante sia stata trasportata all'ospedale Grassi di Ostia intorno alle 14, alle 22.30 nessuno l'aveva ancora visitata. C'era un solo medico, denunciano i familiari che si domandano, ci troviamo nel decimo municipio o in Congo?